L'olio extravergine d'oliva è un ingrediente segreto non soltanto nella cucina mediterranea, non soltanto nella dieta mediterranea, ma riesce grazie a piccole gocce che noi andiamo ad aggiungere in qualunque cucina da qualunque parte del mondo, arricchiamo la qualità del prodotto che stiamo mangiando, ma aggiungiamo salute. Ricordate, lo dice l'Unione Europea con i claims nutrizionali, che aggiungere pochi grammi di olio extravergine d'oliva alla nostra dieta, aiuta molto la nostra salute. E poi perché non friggere con l'olio extravergine d'oliva? Molti studi dimostrano che l'olio extravergine d'oliva utilizzato in tempura, quindi nelle fritture, trasferiscono alle verdure stesse le proprietà nutritive presenti nell'olio ed esaltano quelle presenti nella verdura stessa. Quindi l'uso dell'olio in cucina, dell'olio extravergine di oliva in cucina, è raccomandabile in tutte le cucine del mondo, anche nella tua.